partenza partenza rifugio orsi ciao ciao i preparativi per questa seconda giornata li vedo tutti belli carichi guardate qui ormai mette giù quello li mette giù l'asciugamano e prende il sole fra un po' basta che mettono sull'acqua ma che roba? bel crinale quello li da fare con gli scia sti tendo non vedo del pallico ma che foto stai facendo? arrovesciata arrotolata la punta dell'alfeo e tu com'è? eh? com'è? fontana val torta boh fa le torte state insieme due bestie ok Grazie a tutti.